Sura diciannovesima Mariam Maria In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso Questo è il racconto della misericordia del tuo Signore verso il suo servo Zaccaria quando invocò il suo Signore con un'invocazione segreta dicendo O Signor mio, già sono stanche le mie ossa e sul mio capo brilla la canizie e non sono mai stato deluso invocandoti, o mio Signore Mia moglie è sterile e temo il comportamento dei miei parenti dopo di me Concedimi da parte tua un erede Che erediti da me ed erediti dalla famiglia di Giacobbe Famio, Signore, che sia a te gradito O Zaccaria ti diamo la lieta novella di un figlio Il suo nome sarà Giovanni A nessuno in passato imponemmo lo stesso nome Disse Come potrò mai avere un figlio Mia moglie è sterile e la vecchiaia mi ha rinsecchito Rispose È così Il tuo Signore ha detto Ciò è facile per me Già una volta ti ho creato quando non esistevi Disse Zaccaria Dammi un segno, mio Signore Rispose Il tuo segno sarà che, pur essendo sano non potrai parlare alla gente per tre notti Uscì dall'oratorio verso la sua gente e indicò loro di rendere gloria al Signore al mattino e alla sera O Giovanni Tienti saldamente alla scrittura E gli demmo la saggezza Fin da fanciullo Tenerezza da parte nostra E purezza Era uno dei timorati Amorevole con i suoi genitori Né violento Né disobbediente Pace su di lui Nel giorno in cui nacque In quello della sua morte E nel giorno in cui sarà risuscitato A nuova vita Ricorda Maria nel libro Quando si allontanò dalla sua famiglia in un luogo d'oriente Tese una cortina tra sé e gli altri Le inviamo al nostro spirito che assunse le sembianze di un uomo perfetto Disse Maria Mi rifugio contro di te presso il compassionevole se sei di lui timorato Rispose Non sono altro che un messaggero del tuo Signore per darti un figlio puro Disse Come potrei avere un figlio che mai un uomo mi ha toccata e non sono certo una libertina Rispose È così Il tuo Signore ha detto Ciò è facile per me Faremo di lui un segno per le genti e una misericordia da parte nostra E cosa stabilita Lo concepì E in quello stato si ritirò in un luogo lontano I dolori dal parto la condussero presso il tronco di una palma Diceva Me disgraziata fossi morta prima di ciò e fossi già del tutto dimenticata Fu chiamata da sotto Non ti affliggere che certo il tuo Signore ha posto un ruscello ai tuoi piedi Scuoti il tronco della palma Lascerà cadere su di te datteri freschi e maturi Mangia bevi e rinfrancati Se poi incontrerai qualcuno di ho fatto un voto al compassionevole e oggi non parlerò nessuno Tornò dai suoi portando il bambino Dissero O Maria è commesso un abominio O sorella di Aronne tuo padre non era un empio né tua madre una libertina Maria indicò loro il bambino Dissero Come potremmo parlare con un infante nella culla Ma Gesù disse In verità sono un servo di Allah Mi ha dato la scrittura e ha fatto di me un profeta Mi ha benedetto ovunque sia e mi ha imposto l'orazione e la decima finché avrò vita e la bontà verso con lei che mi ha generato Non mi ha fatto né violento né miserabile Pace su di me il giorno in cui sono nato il giorno in cui morrò e il giorno in cui sarò resuscitato a nuova vita Questo è Gesù figlio di Maria parola di verità della quale essi dubitano Non si addice ad Allah prendersi un figlio Gloria a lui Quando decide qualcosa dice Sì ed essa è In verità Allah è il mio e vostro Signore adoratelo Questa è la retta via Poi le sette furono in disaccordo tra loro Guai a coloro che non credono quando compariranno nel giorno terribile Ha come vedranno e intenderanno nel giorno in cui saranno ricondotti a noi Ma gli ingiusti oggi sono in palesa errore Avvertili del giorno del rimorso in cui sarà emesso l'ordine mentre essi saranno distratti e non credenti Siamo noi che erediteremo la terra e quanti vi stanno sopra e che a noi saranno ricondotti Ricorda nel libro Abramo In verità era un veridico un profeta Disse a suo padre O padre perché adori ciò che non vede non sente e non può proteggerti d'alcunché O padre mi è stata data una scienza che tu non hai avuto seguimi e ti condurrò sulla retta via O padre non adorare Satana egli è sempre disobbediente al compassionevole O padre temo che ti giunga un castigo del compassionevole e che tu divenga uno dei prossimi di Satana Disse O Abramo hai in odio i miei dei se non desisti ti lapiderò allontanati per qualche tempo Rispose pace su di te Implorerò per te il perdono del mio Signore poiché egli è sollecito nei miei confronti Mi allontano da voi e da ciò che adorate all'infuori di Allah Mi rivolgo al Signore che certamente non sarò infelice nella mia invocazione al mio Signore Quando poi si fu allontanato da loro e da quello che adoravano all'infuori di Allah gli donammo Isacco e Giacobbe ed entrambi li facemmo profeti Concedemmo loro la nostra misericordia e un sublime veritiero eloquio Ricorda Mosè nel libro In verità era un eletto un messaggero un profeta Lo chiamamo dalla parte destra del monte e lo facemmo avvicinare in confidenza E come misericordia da parte nostra gli demmo suo fratello Ronne come profeta Ricorda Ismaele nel libro In verità era sincero nella sua promessa era un messaggero un profeta Imponeva alla sua famiglia l'orazione e la decima ed era gradito il suo Signore Ricorda Idris nel libro In verità era veridico un profeta Lo elevammo in alto luogo Essi sono coloro che Allah ha colmato della sua grazia tra i profeti discendenti di Adamo tra coloro che portammo con Noè tra i discendenti di Abramo e di Israele e tra coloro che abbiamo guidato e scelto Quando venivano recitati loro i segni del compassionevole cadevano in prosternazione piangendo Coloro che vennero dopo di loro tralasciarono l'orazione e si abbandonarono alle passioni incontreranno la perdizione Coloro che invece si pentono credono e compiono il bene entreranno nel giardino e non subiranno alcun torto nei giardini di Eden che il compassionevole ha promesso ai suoi servi che hanno creduto nell'invisibile ai suoi servi che la sua promessa è imminente e non ascolteranno Colà nessun discorso vano ma solo pace e verranno sostentati al mattino e alla sera Questo è il giardino che faremo ereditare i nostri servi che saranno stati timorati Noi scendiamo solo per ordine del tuo Signore A Lui appartiene tutto quello che ci sta innanzi tutto quello che è dietro di noi e ciò che vi è fra mezzo Il tuo Signore non è in memore È il Signore dei Cieli e della Terra e di tutto ciò che vi è fra mezzo Adoralo dunque e persevera nell'adorazione Conosci qualcuno che abbia il suo stesso nome? Dice l'uomo Quando sarò morto chi mi riporterà alla vita? Non si ricorda l'uomo che fummo noi a crearlo quando ancora non era nulla? Per il tuo Signore li riuniremo insieme ai diavoli e poi li condurremo inginocchiati attorno all'inferno Quindi trarremo ad ogni gruppo quello che fu più arrogante verso compassionevole Che meglio di tutti conosciamo coloro che più meritano di bruciarvi Nessuno di voi mancherà di passarvi Ciò è fermamente stabilito dal tuo Signore Salveremo coloro che ci hanno temuto e lasceremo gli ingiusti in ginocchio Quando vengono recitati i nostri chiari versetti i miscredenti dicono a coloro che credono Quale dei due partiti è a migliore posizione e buona compagnia Quante generazioni abbiamo orientato prima di loro più ricche di beni e di prestigio D Che il compassionevole prolunghi la vita di coloro che sono sviati finché non vedranno il castigo e l'ora che li minaccia Sapranno allora chi si trova nella peggiore situazione e chi ha la compagine più debole Allah rafforza la guida di quelli che seguono la retta via Le buone tracce che restano sono le migliori per la ricompensa e per il migliore esito presso Allah Che ti sembra di colui che ha rinnegato i nostri segni asserendo certo avrò beni e figli Conosce il mistero o ha stretto un patto con il compassionevole Certo che no annoteremo quello che dice e molto accresceremo il suo tormento Saremo noi ad ereditare ciò di cui parla e si presenterà da solo dinnanzi a noi Si sono presi dei all'infuori di Allah sperando che fossero loro d'aiuto Invece no Essi rifiuteranno la loro adorazione e saranno loro nemici Non vedi che abbiamo mandato i diavoli contro i miscredenti per incitarli con forza? Non aver fretta di combatterli Siamo noi a tenere il computo Il giorno in cui riuniremo i timorati presso il compassionevole come invitati d'onore e spingeremo i malvagi nell'inferno come bestie all'abbeveratoio non beneficeranno di nessuna intercessione a parte colui che avrà fatto un patto con il compassionevole Dicono Allah si è preso un figlio Avete detto qualcosa di mostruoso Manca poco che si spacchino i cieli si aprono la terra e cadono a pezzi le montagne perché attribuiscono un figlio al compassionevole Non si addice al compassionevole prendersi un figlio Tutte le creature dei cieli e della terra si presentano come servie al compassionevole Egli li ha contati e tiene il conto e nel giorno della risurrezione ognuno si presenterà da solo davanti a Lui In verità il compassionevole concederà il suo amore a coloro che credono e compiono il bene Lo rendemmo facile la tua lingua perché tu annunci la lieta novella ai timorati e avverta il popolo ostile Quante generazioni facemmo perire prima di loro Ne puoi ritrovare anche uno solo o sentire il minimo bisbiglio? Grazie a tutti